blitz dei carabinieri in tutto il centro nord per sgominare una vasta frode agroalimentare nella vendita all'ingrosso e al dettaglio di brunello di montalcino falso e di altri vini di ocg di fama internazionale due gli indagati numerosi gli ettolitri di vino sfuso sequestrati e pronti per la vendita nei mercati internazionali oltre 30.000 le bottiglie già etichettate con il noto marchio e documenti di certificazione qualità falsi decine le perquisizioni effettuate in cantine centri di imbottigliamento supermercati e denoteche in toscana umbria liguria e lazio il vino sequestrato di scarsa qualità proveniente da mercati paralleli dopo essere stato imbottigliato veniva etichettato con false fascette con i sigilli di stato e successivamente commercializzato in italia e all'estero a un prezzo 10 volte superiore al suo reale valore